Se stai guardando questo video non sei un miniscritto e ho solo un paio di minuti per convincerti di iscriverti. Chi è 88 Zelda Fan? È un lettore super collezionista di manga e fumetti. È uno dei più grandi collezionisti di One Piece. No, è un grande collezionista di figure in generale. Ma cosa dite? La sua specialità è Zelda. Ha praticamente tutto. Avevo sentito dire che è un appassionato di videogiochi. Ma non faceva solo un video sul Giappone. Chi è 88 Zelda Fan? Grazie a tutti. 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 Beh, è un po' tutto questo. Iscriviti!